7 della Vanoli che attacca ancora con Spagnolo ultimi 5 secondi per Cremona Spagnolo non ha paura a prendersi la tripla Terzo errore consecutivo da 3 punti dopo il primo canestro iniziale Spagnolo poi se ne va dopo la palla recuperata 2 contro 1 per Venezia e Rufredi Vitali Per il momento non si parte con ritmi altissimi invece sì Sempre 7 punti di vantaggio per Cremona Difesa verso a zona per Pesaro Allora ci riprova ancora Arriva Spagnolo a prendere il pallone direttamente dalla rimessa di Pecchia Vuole attaccare verso il fondo Arriva il contatto con il fischio Proprio per Spagnolo Si chiama il capo il meno 4 del 4º Con Varese quindi ampiamente il suo miglior dato statistico Ha giocato solo a Milano Ha fatto grandi esperienze anche in Europa Quello che sta provando a fare è Spagnolo Ed eccolo qua Allora ci riprova Palla in angolo per Pecchia Spagnolo 4 secondi Deve inventare contro Capogrande Lo lascia lì Altro blocco di Jones Prova il gioco a 2 Intercettato però il passaggio Poi Spagnolo balla la parte opposta L'assist di Pecchia non entrerà nelle statistiche Mentre Spagnolo vuole lavorare contro Theodor Si gira verso il fondo Si butta indietro Si gira verso il fondo Grazie a tutti.